Buongiorno ragazzi, ben ritrovati e buon lunedì a tutti quanti. Come state? Io spero che vada tutto bene e devo chiedervi scusa, perché devo aggiornare un attimo il palinsesto. Solitamente il giorno dopo la partita cosa facciamo? Alle 7 una breve chiacchierata di riscaldamento su quelle che sono state le dichiarazioni a caldo dei protagonisti e quella è già uscita, la trovate qui sul canale, trovate tutto qui sopra nelle schede. E poi per ora di pranzo che cosa faccio? Vi porto le pagelle, in modo che durante la vostra pausa pranzo, da lavoro, studio, quello che state facendo potete ascoltarvi un po' le valutazioni della partita. Oggi dobbiamo cambiarlo il palinsesto, non faremo le pagelle a quest'ora, fatemi sapere se le volete comunque questa sera, fatemelo sapere nei commenti se siete comunque interessati alle pagelle di Juventus Fiorentina o se le volete saltare, se preferite saltarle in modo da potermi anche adeguare nel pomeriggio per capire quale contenuto portarvi perché sto preparando anche una mini analisi tattica che invece uscirà nei prossimi giorni. La volete la pagella? Sì? No? Vi interessa poco? Vi interessa meno? Non lo so. Parola a voi nei commenti. Però oggi dovevamo cambiarla, appunto, dovevamo modificare questo palinsesto, questa abitudine. Perché? Perché ieri sera poi è successo qualcosa. È successo qualcosa prima, prima che Allegri andasse alle telecamere di Dazoni, di tutte le conferenze che ha fatto. E infatti poi ieri sera c'è stato diverso caos, soprattutto sui social network, soprattutto su Twitter. Perché? Perché a un certo punto Luca Momblano, lo ricorderete, che aveva già dato in anteprima la notizia della separazione di Allegri nel 2019, anche se anche l'anno scorso parlava di un Allegri destinato a andare via, ma, sapete come ha fatto Momblano, gioca molto con le percentuali e a 0% non c'era mai andato, e invece ieri sera è arrivato a 0%, esattamente come nel 2019. 0 non è 0, qualcosa, ti puoi ribaltare, 0 è 0. Quindi significa che una volta che ti esprimi, ti sbilanci e vai a dire una roba del genere, non si torna più indietro, no? E va anche della tua credibilità. Ora, io non credo che ci sia da fidarsi al 100%, ma non perché è Luca, ma perché è un discorso relativo al calcio. Le vie del calcio per me sono infinite. Magari i dirigenti della Juventus in questo momento Allegri lo vogliono esonerare, l'anno prossimo vogliono metterti a Gomotta, sono già d'accordo, eccetera, eccetera, eccetera. Ma non significa che andrà effettivamente così, può esserci anche una volontà e poi magari dall'alto la proprietà, no, lo rinnoviamo. Questa è un po' la linea guida che vi do, vi dico di ragionare anche da questo punto di vista. Però ovviamente le informazioni e le informazioni incrociate che arrivano sono queste, cioè la Juventus ha in testa, ha idea di cambiare allenatore. Ieri anche Fabrizio Romano e Nico Schira sono andati a esprimersi in questo modo sui social network. Fabrizio Romano ha addirittura rituitato anche ieri sera, nella tarda nottata, intorno alle 2 di notte, un post che parlava di altre panchine, parlava, meno male, di Ruben Amonim che dovrebbe andare al Liverpool, e ce l'ha scritto però anche lì Allegri dovrebbe lasciare la Juventus. Quindi gli indizi iniziano ad essere tanti, però volevamo andare un po' più nel profondo e quindi ho cercato un attimino di domandare che cos'è successo effettivamente ieri sera, perché a Bomblano non si è limitato a dire 0%, è andato a tirar fuori anche una sorta di teatrino abbastanza pesante con un Allegri che sarebbe andato non solo contro i dirigenti ma pure contro i giocatori. Nel post partita di Juventus-Ferentina, un post partita vinto. E allora mi viene a dire che ragione avrebbe Allegri di andare contro i dirigenti e i giocatori in un post partita vinto in un momento in cui torni a vincere in Serie A dopo una serie di partite francamente inaccettabile dal punto di vista della prestazione e dal punto di vista del risultato? Era una cosa abbastanza tosta. Addirittura Bomblano diceva che oggi poteva aspettarsi, però quella era la sua sensazione, qualche decisione della Juventus. Allora, io vi dico che subito ho pensato al fatto che la Juventus potesse fare un comunicato nella giornata di oggi per ufficializzare che Allegri non sarebbe stato allenatore l'anno prossimo. Questa è stata la mia idea primordiale. Ieri notte sono andato a letto, erano quasi le 3 e intorno alle 3 di notte pensavo questa roba qui. Quindi, se ha rotto con i giocatori e devono arrivare alla fine dell'anno e non vogliono sostituirlo, esonerarlo per non mettere un traghettatore, bisogna che comunque i giocatori siano tranquilli di poter giocare per loro stessi e non per Allegri. Per giocare per la Juventus, per le loro carriere, per il finale di stagione. Perché se no se rompi con i giocatori diventa molto difficile, lo sappiamo bene. Le dinamiche del calcio, gli incastri, i meccanismi, gli spogliatoi, gli equilibri, queste robe qui sono sacre in una stagione. Al di là della tecnica, della tattica, della forma fisica e tutto il resto, però la relazione tra l'allenatore e i giocatori è e deve rimanere sacra. Senza quella si perde tanto dello sport in generale. Ma non dovrebbe succedere questa roba qui. Io pensavo potesse essersi arrabbiato per un discorso legato all'incertezza sul futuro, soprattutto oggi, che stanno uscendo delle voci importanti. Quando iniziano a sbilanciarsi i giornalisti di questo livello, ora, io non credo che Allegri segua su Twitter Fabrizio Romano. Non penso che sia così. Però sicuramente avrà un ufficio stampa che gli va a riportare quello che viene detto dai più grandi organi di informazione. A quei livelli lì devi per forza di cose tenere monitorato quello che si dice, quello che accade, quello che succede. E quindi potrebbe benissimo aver chiesto delucidazioni. E allora, ieri sera al termine della partita, oggettivamente, o almeno ufficiosamente, mi riportano, che c'è stato uno scazzo negli spogliatoi tra Allegri e altre persone. Niente addirittura di nuovo, mi dicono, perché è qualcosa che è già successo, o niente nemmeno di straordinario. Però è un'informazione che potrebbe uscire per iniziare ad incalanare questa notizia che arriverà di Allegri fuori dalla Juventus nelle prossime ore, nei prossimi giorni, ok? Questa dovrebbe essere, bene o male, la linea guida. E poi però bisogna capire perché c'è stata questa arrabbiatura, questo Allegri alterato. E allora, la lettura è che anche oggi i risultati erano un po' in bilico, no? Perché il secondo tempo della Juventus è stato un secondo tempo non accettabile. È stato un secondo tempo dove la palla non l'aveva mai avuta, Bari Centro l'aveva avuta a città vecchia, no, a Bari vecchia, anzi, a Bari vecchia rende ancora più l'idea, e con un paio di occasioni dove una volta è Scesni, una volta Anzolà, ha fatto le superparate e la palla non è entrata. Quindi la sensazione è che Allegri sia praticamente rimasto un uomo solo all'interno della Juve e che quindi anche lui che è umano debba in qualche modo poi scaricare lo stress in qualche modo. In che modo? Così. Però ancora non regge, manca ancora i casi sbelli. E allora qual è la motivazione per cui Allegri si è arrabbiato? O perché è nata questa discussione? La ricostruzione è che Allegri abbia letteralmente cacciato, cacciato, dallo spogliatoio alcuni dirigenti. Io non ho idea se possa farlo, non ho idea se poi sia effettivamente accaduta questa cosa, io vi riporto quello che mi è stato detto, Allegri avrebbe cacciato i dirigenti dagli spogliatoi. Perché? Ci arriviamo. Ma avrebbe scazzato anche con alcuni giocatori, per via di errori e infatti poi va alle telecamere, ad Azone, eccetera, eccetera. Ne abbiamo parlato nel video di questa mattina. Si toglie due o tre sassonini dalla scarpa su due o tre situazioni. Quindi Allegri che si va a sfogare direttamente dagli spogliatoi prima di andare alle telecamere perché sa che lì poi, anche dal punto di vista comunicativo, deve cercare di tenere un certo regime. Ma la frettata ormai era stata fatta perché si era arrabbiato con i giocatori per situazioni di campo e con i dirigenti per altre motivazioni, addirittura cacciandoli dagli spogliatoi. Ora, è logico che ci sia una vera e propria crepa tra Allegri e la società, Allegri e i giocatori, Allegri e la tifoseria, in generale Allegri e la Juventus. Però la motivazione è una e una sola. Allegri vuole, pretende, avrebbe piacere di ricevere informazioni. Cioè, in questo momento, la Juventus è a sette partite dal termine della stagione in Serie A, una semifinale di ritorno in Coppa Italia da giocare e stop. Ufficialmente sono otto partite, possono essere nove. E poi finisce la stagione. Manca un mese e venti giorni. Una cinquantina di giorni da qui alla fine dell'anno. Allegri è in scadenza 2025. 2025. Che significa che l'anno prossimo o inizia in scadenza o quest'anno devono sostituirlo. Ovviamente questo in caso di assenza di rinnovo, ma sembra essere questo il caso. E quindi lui, giustamente, oggi è un po' preoccupato. E avrebbe piacere che la Juventus potesse dirgli qualcosa. Ma, 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 ordini dall'alto, e qui torniamo all'interno dei video che avevo portato qualche giorno fa in cui vi dicevo, ragazzi, dopo Juve Genua, 0-0, vi portai il video dicendovi, ragazzi, nella testa della Juventus, c'è finire l'anno con Allegri. E una volta raggiunta la Champions, ufficializzare la separazione. Vi avevo detto così, post Juventus Genua 0-0, con focus sulle prime due partite post-pausa, quindi Lazio e Lazio, e se poi vanno male quelle lì, allora magari intervengono con un traghettatore o comunque con un comunicato o qualcosa del genere. Questa è la linea post- Juventus Genua 0-0, da lì non ci siamo mossi. Tra l'altro Allegri ha rischiato davvero con la Lazio e il ritorno, ha vinto la partita, e la panchina si è un attimino stabilizzata perché iniziava a traballare come si stava traballando. Ma non per il finale di stagione, dove la dirigenza è già d'accordo del cambiare, andare con un altro allenatore, un altro profilo che sembra essere davvero Tiago Motta, eccetera, eccetera, eccetera. Poi vale la premessa iniziale, e cioè che se poi cambia qualcosa dall'alto oltre ai dirigenti dici si può fare poco. Però Allegri in questo momento sta subendo quella che, secondo me, non esagero a definire una tortura psicologica importante. Perché io credo che sia francamente stressante fare un qualsiasi tipo di lavoro, qualsiasi, con un contratto in scadenza senza sapere quale sarà il tuo futuro. Poi bisogna per forza di cose contestualizzare al mondo del calcio perché a me è capitato anche delle esperienze lavorative in cui andavo a lavorare e mancavo una settimana al termine del mio contratto a tempo determinato e dovevo andare a chiedere ma scusate che cosa avevo intenzione di fare una settimana non un anno ma sono dinamiche normali e la gente mi diceva ma sì tranquillo poi ne parliamo sì io però ricordo aver vissuto quella stessa situazione ovviamente con un'importanza minore un salario minore tutte queste robe però sono situazioni stressanti ti logorano poi ovviamente è normale che un dipendente abbia volontà di sapere quale sarà il suo futuro quindi da questo punto di vista è una vera e propria tortura nei confronti di Allegri però c'è da guardare l'altra faccia della medaglia e cioè che la Juventus ha intenzione di non ufficializzare niente fino a che non si raggiungerà l'obiettivo Champions League perché la Juventus ha bisogno di quei soldi di quella certezza per iniziare a programmare il futuro la Juventus si sta già muovendo sotto traccia i beninformati parlano di contatti che ci sono già stati traggiuntoli e Tiagomotta altra cosa che sicuramente ad Allegri avrà dato fastidio altra situazione di stress sicuramente oltre a tutta l'adrenalina della partita il post partita il risultato imbilico e queste robe qui che sicuramente ci sono però la mia percezione oggi è che Allegri in cuor suo nella sua testa abbia davvero pensato che vincendo la Coppa Italia qualificandosi per la Champions League tutto sommato la stagione era positiva e quante volte mi hanno detto che era l'ultimo anno alla Juventus e quante volte poi ci sono rimasto lo stesso la spunto anche questa volta ho sette vite come i gatti questa è un po' la lettura che sto facendo della situazione Allegri però credo anche che in cuor suo sappia perfettamente che arrivati a questo punto della stagione a maggior ragione quando il contratto è inscadenzato che anche il primo esonero era arrivato con ancora un anno rimanente di contratto che in cuor suo sappia che la situazione inizia a farsi rovente e che se magari un mese fa diceva ma sì da qui a poco me lo dicono adesso semplicemente stia pensando o però è tutte queste voci che vanno nella direzione opposta sono vere sono finte devo preoccuparmi non devo farlo no meglio che mi preoccupo quindi questa è la lettura la situazione la ricostruzione che vi do ieri sera c'è stato qualcosa sì sembra esserci stato qualcosa è la prima volta no situazioni normali da campo nella serie eh tu hai sbagliato quello dovevi fare quell'altro e secondo me su Hildiz secondo me su Hildiz sicuramente questa ricostruzione poi vedremo se avrà fuori qualcosa questo non lo so mia sensazione personale ed era anche il titolo del video di stamattina tra le altre cose era anche il titolo del video di stamattina e più che altro quello con i dirigenti ma quello con i dirigenti vi dico umanamente lasciando da parte tutti i discorsi sulle responsabilità le colpe i meriti l'allegri che rimane l'allegri che va via umanamente mi dico che comprendo lo status di delusione di stress di Massimiliano Allegri perché delle due fammi sapere anche solo che vado via poi è ovvio che io credo anche giustamente oggi il dirigente della Juve stia ragionando dicendo sì e se ti dico che vai via con che stato d'animo finisci la stagione con quello del professionista che comunque deve portare la barca in porto anche se sa già il suo futuro o con quello di uno che dice vabbè tanto sai cosa c'è tanto l'anno prossimo io non ci sono affaracci vostri perché poi uno può anche metterci la più buona volontà però magari lo stato d'animo è quello lì domina e va a creare delle situazioni un po' scomode è una situazione scomoda è una situazione scomoda non prendiamoci in giro non è una situazione piacevole da vivere né per i tifosi ovviamente perché poi la Juventus ci va di mezzo immagino nemmeno per i giocatori sicuramente non per Allegri ma credo neanche per i dirigenti stanno veramente seguendo una linea che è chiara ragazzi è la linea che c'è da due tre settimane non è una novità non c'è niente di nuovo andatevi a vedere il video di Juventus post Juventus Genova 0 a 0 che è il piano dei dirigenti della Juventus quello era il titolo e la linea è quella andare avanti con Allegri fino al termine della stagione a meno che non ci si avvicini talmente tanto dalla zona quinto posto da dover ricorrere alle zone in corso quindi non dovrebbero esserci comunicati oggi non dovrebbe essere cambiato nulla la Juventus vuole cambiare allenatore al termine dell'anno Allegri l'ha capito l'ha notato l'ha percepito e questa cosa non gli sta facendo per niente bene e reagisce in questo modo fatemi sapere la vostra e forza Juventus